La stazione di Bosco Redole è una stazione ferroviaria posta al video tra la linea Benevento Campobasso e la Isernia Campobasso in provincia di Campobasso. Si trova nella contrada di Bosco Redole, frazione del comune di San Giuliano del Sannio. Nel 2004 la stazione è stata chiusa al traffico. Fin dall'apertura delle linee ferroviarie Benevento Campobasso e Isernia Campobasso, all'altezza del Bivio che divideva queste due linee si costruì un casello per dirigere il traffico ferroviario denominato PM Bivio Bosco Redole 1. Nel 1908 il PM diventa Bivio Bosco Redole 2. Il 1 luglio 1950, in seguito alle richieste di alcuni contadini della zona, il posto di movimento venne trasformato in stazione, abilitata al servizio viaggiatori e bagagli 3. Dal punto di vista ferroviario l'impianto continuava a essere un semplice bivio, quindi senza possibilità di incroci tra convogli. Con il passare degli anni sempre meno convogli fermavano a Bosco Redole, in ultimo solo due e poi una coppia della direttrice Benevento Campobasso. Nonostante questo si realizzò, agli inizi degli anni 90, un nuovo piccolo fabbricato sia per il servizio passeggeri, mai utilizzato, sia per la dirigenza del movimento. Venne anche costruito, poco oltre il punto di bivio un secondo binario, che permetteva così gli incroci. Dal 2004 la stazione viene chiusa al traffico passeggeri mentre continuò ad essere presenziata da dirigente movimento fino al 2012 per gestire il traffico sul bivio. Dal febbraio 2012 la stazione ha subito un evidente cambiamento nella disposizione dei binari. Le funzioni di bivio e di incrocio, prima distinte, ora vengono svolte in un unico impianto, è divenuta così una stazione di bivio, così da permettere la percorrenza di tale impianto a velocità superiori a quanto possibile in precedenza. Viene in particolare agevolata la direttrice Bairano Campadasso per la quale l'impianto è percorribile, trovandosi sul binario di corretto tracciato, alla stessa velocità massima di linea. Bosco Regola è dotata di un fabbricato viaggiatori chiuso e inutilizzato. Alcuni locali erano sede della dirigenza del movimento. All'interno si contano due binari passanti per il servizio passeggeri, serviti da due banchine e collegati tramite una passerella. Non è presente scalo merci. Nei pressi della stazione è presente un casello ferroviario recante la chilometrica 0 più 112. Dal mese di gennaio 2012 la stazione è impresenziata e gestita in telecomando dal dicio avente sede in Bari. Un'altra stazione chiusa, un'altra vergogna, basta. La soluzione, sarebbe riattivare la fermata con alcune corse di entrambe le linee, ricordando che una delle due, la Benevento Bosco Regola Campobasso, è sospesa, promuovendo il vicino bosco, per lo sviluppo turistico della zona. Ricordiamo, che vi è un vicino villaggio. Si potrebbero attuare delle corsette di bus, in partenza dalla stazione per il villaggio. San Giuliano del Sannio, comune di 1070 abitanti che ospita la stazione, potrebbe pensare ad una soluzione del genere, segnalandola alla regione.